Come si gioca al TCG di Battlespirits Saga? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC basato sulla rinascita del prodotto targato Bandai? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Battlespirits Saga torna alla ribalta. La casa nipponica Bandai ha annunciato la tanto attesa venuta del secondo atto del fenomeno asiatico che tra il 2008 e il 2009 ha ottenuto il titolo di TCG più venduto dell'anno. E sarà proprio in questo video che ne esploreremo le meccaniche in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Battlespirits Saga vedrà un terreno dove andrete a posizionare i vostri spiriti o Nexus, uno spazio dedicato alle vostre vite, un'area chiamata Burst dove andrete a collocare carte con l'omonimo effetto, una riserva dove accumulerete i nuclei, vedremo tra poco a cosa serviranno, ed infine una zona dedicata al deck ed alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo composto da esattamente 50 carte. Sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel deck non potranno essere presenti in numero superiore a 4 unità per singola carta, un numero approssimativo di 30 nuclei ed un singolo nucleo dell'anima che dovrà essere facilmente distinguibile dagli altri. Potrete utilizzare anche dei token provvisori che ne faranno le veci. Prima di iniziare un match dovrete creare una riserva chiamata Void che sarà in comune tra i due giocatori. Poi dopo aver mescolato il vostro mazzo andrete a posizionarlo nella zona ad esso dedicata pescando di seguito 4 carte per formare la mano iniziale. Se le carte in vostro possesso non vi soddisferanno potrete optare per un mulligan collocando tutti gli elementi in fondo al mazzo pescandone di seguito altre 4 dalla cima del deck mescolando quest'ultimo alla fine del procedimento. Sarà da notare che se mulligerete fornirete all'avversario la possibilità di pescare una carta il quale inizierà il match con 5 elementi in suo possesso. Quindi selezionando i nuclei presenti nel Void ne andrete a collocare 5 nella vostra area delle vite ed altri 3 più il nucleo dell'anima nella riserva. Infine attraverso un sistema casuale come il lancio di un dado sceglierete quale dei due giocatori partirà per primo dando subito dopo inizio all'incontro. Ok Arconte ed ora che ho pescato le mie prime 4 carte scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Battle Spirit Saga riporterà per gli spirits il valore di evocazione attraverso l'utilizzo dei nuclei con il rispettivo numero di riduzione costo lo vedremo tra poco, il nome della carta, la tipologia, il box degli effetti con a sinistra i relativi attacchi suddivisi per livelli della creatura, un testo citato riguardante le varie carte presenti nel TCG, un simbolo che vi ritornerà utile per diverse dinamiche di gioco come il calcolo del costo netto o per conteggiare i danni in fase di attacco ed il colore, la rarità e il numero della carta all'interno del proprio set di riferimento. I Nexus presenteranno tutto quello che ci sarà in comune con le carte Spirit valore di attacco escluso, mentre le Magic presenteranno nel box di testo delle azioni da svolgere durante l'arco della partita più tutto quello che ci sarà in comune con le carte Spirit e Nexus. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. Gli Spirit rappresenteranno il pilastro principale del deck e potrete riconoscerli a colpo d'occhio grazie alla cornice circolare che includerà in essa il costo di evocazione. Queste tipologie di carte vi torneranno utili per riuscire a portarvi a casa l'incontro, avendo la possibilità di essere potenziate durante l'arco del match per sferrare attacchi sempre più potenti. I Nexus vi aiuteranno a rafforzare le vostre linee di battaglia o depotenziare quelle nemiche attraverso effetti che vi supporteranno durante le varie fasi di un incontro. Potrete riconoscere questa tipologia di carte a colpo d'occhio grazie alla cornice esagonale che includerà in essa il costo di giocata. Ed infine le Magic vi torneranno utili per salvaguardare la sicurezza vostra e delle creature già impiegate sul campo di battaglia che possiederete grazie ad abilità applicabili durante le varie fasi di un incontro. A differenza degli Spirit e i Nexus, una volta che l'effetto di queste carte sarà risolto verranno poste direttamente nella pila degli scarti. Potrete riconoscere questi elementi a colpo d'occhio grazie all'icona forma di stella a 6 punte che includerà in essa anche qui il costo di giocata. Ok Arconte, tutto chiaro? Ed ora? Non ci resterà altro da fare che scoprire assieme le sette fasi che comporranno un turno di gioco. Start, Core, Draw, Refresh, Main, Attack ed End Step. La prima fase vedrà iniziare semplicemente il turno di un giocatore. Quindi nella seconda andrete a prendere un nucleo dal void posizionandolo all'interno della vostra riserva. Sarà da notare che chi inizierà per primo salterà questo step. Fatto ciò potrete accedere alla fase di pescata andando ad aggiungere una carta dalla cima del mazzo direttamente nella vostra mano. Quindi andrete nella fase di refresh a ripristinare ogni carta esausta, muovendo di seguito ogni nucleo utilizzato nei turni precedenti presenti nella zona degli scarti nuovamente nella riserva. Anche qui chi inizierà per primo salterà questa fase. Ci saranno due stati nel quale le carte potranno trovarsi durante una partita, pronte ed esaurite. Quando dovrete esaurire una carta pronta vi basterà ruotarla di 90 gradi. Dopo aver affrontato la fase di preparazione entrerete in quella principale dove potrete giocare, utilizzare, evocare creature e quant'altro dalla mano, muovere nuclei riarrangiandoli e settare delle carte nella zona dei burst in qualsiasi ordine quante volte vorrete finché potrete. Per giocare una carta dalla mano dovrete per prima cosa visionare il costo richiesto traducibile e nuclei presente sulla parte alta a sinistra. Quindi se avrete abbastanza risorse a vostra disposizione, sia nella riserva che sulle carte già presenti in campo potrete impiegare le creature, i Nexus e le Magic utilizzandoli durante le varie fasi di un turno. Ora, una volta che avrete giocato, in questo caso un servitore, dovrete assegnargli un ulteriore nucleo richiesto per il suo livello. Dovrete letteralmente mettere sopra la carta uno dei segnalini a vostra disposizione pena la distruzione della creatura stessa. Aspetta Arconte, non ho capito. Sulle carte varie, Spirit o Nexus saranno presenti dei livelli, di solito tre. Ebbene, a livello dedicato saranno assegnati anche dei rispettivi valori di attacco accompagnati da un numero. Quest'ultimo indicherà quanti nuclei dovranno essere presenti sul mostro per far sì che esso si trovi minimo a livello 1. Se non avrete abbastanza nuclei a disposizione, il primo livello non verrà raggiunto e la carta verrà automaticamente distrutta. Ho capito Arconte, ma a me rimane in riserva solo il nucleo dell'anima. Come faccio a far sopravvivere il mio mostro? Posizionando proprio questo nucleo su di esso. In questo modo garantirete allo Spirit appena entrato in gioco nel vostro turno iniziale di raggiungere il primo livello, assegnandogli inoltre anche un valore di attacco che vi tornerà utile durante le varie battaglie che combatterete. Ci saranno anche carte, come ad esempio i già menzionati Nexus, che potranno essere giocate senza l'utilizzo di ulteriori risorse una volta presenti in campo richiedendo 0 nuclei per il loro primo livello. Potrete inoltre anche posizionare più di un nucleo su una carta appena entrata per farla arrivare direttamente al livello 2 o 3 trascurando il primo. Notate bene, per l'evocazione basterà soddisfarne il costo indipendentemente dall'utilizzo dei nuclei a vostra disposizione. Faccio un esempio pratico Arconte. Se ad esempio vorrete impiegare in battaglia un Rai Needle ad inizio partita, potrete pagare il suo costo attraverso l'utilizzo di un nucleo dell'anima posizionando poi sul mostro un nucleo tradizionale. Il concetto fondamentale sarà assegnare un cristallo al servitore di qualsiasi natura per non farlo morire. Ho capito Arconte, ma allora a che servirà questo benedetto nucleo diverso? Alcune carte riporteranno nel box di testo la possibilità dell'utilizzo di quest'ultimo per innescare ulteriori abilità, come ad esempio il Dark Knight a Gloveil, che quando verrà distrutto vi permetterà di pescare una carta se possiederà un nucleo dell'anima su di esso, o il Great Bow Angel, che quando verrà giocato vi permetterà di pescare due carte dalla cima del deck riposizionandone di seguito altrettante dalla mano in fondo al mazzo se avrete speso anche un nucleo dell'anima per evocarlo. Aspetta un secondo Arconte, prima hai detto sia nella riserva che sulle carte già presenti in campo per quanto riguarda l'evocazione di servitori o Nexus. In che senso? Per evocare ad esempio un Blazing Boar con costo pari a 4, dopo aver calcolato il suo costo di evocazione netto, lo vedremo fra poco, potrete spendere 3 nuclei disponendone di 2 presenti già sulle carte giocate ed uno direttamente dalla riserva. Eh ma in questo caso, come hai detto, non si avranno nuclei a disposizione per far arrivare il mostro a livello 1. Niente paura, riarrangiando i nuclei durante la fase principale, potrete spostarne ulteriormente un altro da una creatura sotto il vostro possesso al Blazing, salvando così il Boar dalla distruzione dovuta alla mancanza di risorse. Ok Arconte, questo passaggio mi è chiaro, ma parlando di giocare carte mi è tornata in mente una cosa. Hai parlato di calcolo del costo netto. Di cosa si tratta? Ogni carta presente in Battle Spirit Saga riporterà sotto il nome delle icone, che andranno da un numero minimo di una ad un massimo di X e per quanto riguarderà unicamente gli Spirit e i Nexus, nella parte bassa a destra un simbolo esagonale. Per calcolare quindi il costo netto di una carta vi basterà una semplice sottrazione matematica. Costo di evocazione meno simboli presenti sulle carte in campo. In questo caso, ad esempio, se vorrete adoperare un Dragron Captain, essendo presenti almeno due carte con icona in gioco, vi basterà spendere un singolo nucleo dalla riserva o sulle carte sotto il vostro controllo per impiegare dalla mano il Capitano. Notate bene, potrete sottrarre i simboli al costo originale di una carta solo in numero pari o inferiore al valore riportato sulla carta stessa. Stesso processo di utilizzo varrà per le carte Magic. E a proposito di quest'ultime, oltre all'utilizzo classico, attraverso la vostra fase principale o nella finestra Flash, vedremo fra poco di cosa si tratterà, alcune di esse riporteranno la dicitura evidenziata in rosso, Burst, seguita da una condizione con conseguente effetto. Le carte che possiederanno questa abilità potranno essere poste una volta per turno nella loro zona dedicata. Quindi, quando si verificherà la condizione riportata sulla carta, potrete attivare la Magic attraverso per l'appunto il suo effetto Burst, innescandola senza pagarne il costo. Ci potrà essere una sola carta alla volta nella zona Burst. Se vorrete utilizzarne una seconda, quando ne avrete già una sul terreno, dovrete mandare quest'ultima nella pila degli scarti. Perciò, una volta giocato, utilizzato, evocato creature e quant'altro dalla mano, mosso nuclei, riarrangiandoli e settando delle carte nella zona dei Burst, potrete accedere alla fase di attacco. Una volta nella Battle Face potrete attaccare direttamente l'avversario, con ogni singolo Spirit in stato di pronto a vostra disposizione, esaurendolo. Notate bene, gli Spirits potranno sferrare un'offensiva nello stesso turno nel quale verranno evocati. A questo punto, chi vi giocherà contro potrà decidere di bloccare l'attacco attraverso i propri servitori. Ora, prima e dopo la fase di difesa avversaria, ci saranno quelle che si chiamano rispettivamente Flash Window 1 e 2, dove entrambi i giocatori potranno attivare gli effetti Flash riportati sulle carte Magic, ad esempio. Questi serviranno per rafforzare o la vostra strategia di gioco o indebolire quella rivale. In queste due finestre poste nel bel mezzo del combattimento, sarà chi difenderà ad innescare le proprie abilità per primo, pagandone il costo di giocata netto seguito subito dopo da chi attaccherà. Anche quest'ultimo dovrà affrontare un costo netto da pagare. Se entrambi i giocatori non avranno effetti appartenenti a questa categoria di carte da attivare, porranno termine automaticamente ad una Flash Window. Quindi nel caso l'avversario sceglierà un bloccante per fermare la vostra offensiva, si passerà al calcolo dei danni. Se uno Spirit bloccante avrà un valore di forza maggiore rispetto a quello attaccante, quest'ultimo verrà distrutto. Al contrario, se un attaccante possiederà maggior forza rispetto ad un bloccante, toccherà al difensore lasciare il campo. Mentre se i valori di attacco e difesa si eguaglieranno, entrambi i mostri verranno distrutti e posti nella pila degli scarti. Sarà da notare che quando un servitore lascerà il campo di battaglia, ogni singolo nucleo presente su di esso verrà posto nella riserva, pronto per essere utilizzato all'occorrenza. Se invece lo Spirit attaccante non verrà bloccato, andrete a ridurre la vita avversaria di tanti nuclei quante icone riportate in basso a destra sulla creatura che avrà sferrato l'offensiva. Quindi una volta subito il danno, il giocatore in difesa andrà a spostare un nucleo dalla propria area della vita alla riserva. Ultima nozione, ma non per importanza, sarà che chi inizierà per primo l'incontro salterà alla battle phase. Una volta portato a compimento anche questo step, potrete accedere alla fase finale, dove terminerete il turno permettendo al vostro avversario di iniziare il suo. Arconte è tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita in Battle Spirit Saga? Quando ridurrete a zero le vite avversarie, verrete proclamati vincitori dell'incontro. Allo stesso modo, vi aggiudicherete il match se chi vi giocherà contro non avrà più la possibilità di pescare carte dal mazzo, non avendone più nel deck durante la sua fase iniziale. Come al solito, in descrizione vi lascerò tutti i link utili così da intraprendere avventure sempre più entusiasmanti in compagnia di altri evocatori di spiriti. E voi inizierete a manipolare a vostro piacimento i nuclei che otterrete turno dopo turno dal Void? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.